Coronavirus, misure valide dal 12 marzo in tutta Italia per contenere l'epidemia di covid-19. Limitazioni alle attività commerciali e produttive. Restano aperti le farmacie e le parafarmacie, i supermercati e le attività di vendita di generi alimentari, gli uffici pubblici, l'assistenza domiciliare e i trasporti sociali, la ristorazione a domicilio, gli e-commerce e consegna pacchi, corrieri, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio, di strade, autostrade, stazioni ferroviarie, aereo portuali, lacustre e ospedali, le edicole e le tabaccherie, lavanderie, tintorie e lavanderie industriali, i servizi di pompe funebri, le attività produttive che garantiscono le condizioni di sicurezza per i lavoratori. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi. Restano garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e agroalimentare. Restano chiusi i negozi al dettaglio, i mercati rionali e i centri commerciali, tutte le attività di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie eccetera. I centri benessere, parrucchieri, barbieri ed estetiste, le palestre, le scuole di ballo, le discoteche, le sale giochi, le sale scommesse, tutte le scuole, università, asili nido, concorsi pubblici, musei, biblioteche, cinema, teatri e ogni manifestazione sia pubblica che privata, congressi, riunioni, assemblee, raduni, eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, tutte le cerimonie religiose e civili, compresi i funerali, le attività produttive che non possono garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori. Io resto a casa. Regole di comportamento valide in tutta Italia per contenere l'epidemia di covid-19. Evita di uscire di casa, è la cosa più importante. Mantieni sempre la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone. Evita i contatti anche in casa. Se hai infezioni respiratorie con febbre sopra i 37 e mezzo, chiama il medico. Esci solo se veramente necessario, solo per acquisto di alimentari, comprovate esigenze lavorative e condizioni di necessità. Ricorda che puoi fare la spesa o recarti in farmacia, ma solo vicino a casa e comunque all'interno del tuo comune. Puoi andare a trovare genitori anziani e parenti da acudire, ma usando tutte le precauzioni. Puoi andare a lavorare se non puoi farlo da casa, ma devi avere con te un'autocertificazione che comprovi la necessità dello spostamento. Puoi andare a fare una passeggiata o uscire con il cane, ma nei pressi della tua abitazione, scegliendo spazi che consentano di evitare contatti e mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro con altre persone. Non puoi andare a cena da amici o andarli a trovare. Per ogni approfondimento consulta le facca predisposte sul sito governo.it. Informazioni a cura di Anci Marche e Regione Marche. Numero verde coronavirus attivo dalle 8 alle 20 800 93 66 77